e dispersione scolastica. A livello nazionale, qui si aggiungono i 200 miliardi del patrimonio degli enti territoriali. Nonostante i dati, lo Stato spende ogni anno 915 milioni di euro di locazioni. Ha spiegato Reggi che a Sassari ha sottoscritto quattro protocolli di intesa per la valorizzazione di altrettanti tesori del patrimonio demaniale. Gli orti di Garibaldi a Caprera sono stati consegnati al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che ne ha affidato la gestione all'ente parco La Maddalena, così da poterli includere nel percorso museale dedicato a Garibaldi. Accordo anche con il Comune di Alghero per la necropole di Angelo Ruio, il più esteso e importante ritrovamento pre-nuragico della Sardegna settentrionale che Alghero inserirà nel piano di valorizzazione del complesso monumentale che comprende il Nuraghe Palmavera e la necropole di Santo Pedro. Firmato anche il protocollo con l'Università di Sassari per il restauro conservativo della biblioteca universitaria e quello con il Comune di Olbia per l'ex caserma della Guardia di Finanza. Abbiamo avviato una serie di confronti con i sindaci del Nord Sardegna, li vogliamo accompagnare anche nel processo di vendita di beni ritenuti non più strategici o funzionali, ha concluso Reggi. Da soli i comuni farebbero fatica, ma i loro beni potrebbero rientrare nel ventaglio di offerte che proponiamo a investitori istituzionali o a acquirenti nazionali o internazionali.